Secondo Marcheggiani ci sarebbe un solo uomo al comando, quella dell'Inter. C'ha ragione. Ha ragione? Condivido in pieno. Chiedilo a Beppe. Anche se Beppe ormai gli fa gli scongiuri, ma sa che è così. Può dire quello che vuole, ma sa che è così. L'Inter è una squadra molto forte, molto forte su tutti gli aspetti. Hai spostato le... No, no, no. Già una volta... Le mani erano su. Erano su, prima erano su. È vero, è vero. Beppe. Già una volta mi hanno beccato, quindi basta. Io non vedo tutta questa distanza rispetto alle altre, per quello lo metto insieme. Perché nessuna delle rose delle squadre, anche se sono davanti, sono perfette. Altre squadre, invece, come il Milan, è più intensa, più da uno contro uno. Il Napoli, la Juventus, poi ne parliamo, la forza di quella squadra, secondo me, è nel reparto d'attacco. Quattro attaccanti, uno diverso dall'altro. Quindi, le metto ogni squadra alle proprie situazioni. È bravo. È bravissimo. È bravo a riuscire a... Eh sì sì sì. Però noi sentiamo che si dice... Sì, un po' di... Un po' di vetro, un po' di vetro, un po' di vetro. Un po' di vetro, un po' di vetro. No, dai, dai, un po' di vetro ci sta. Massimo rispetto. Grazie. Grazie a tutti.